Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, 22 marzo 1982, ovvero esattamente 40 anni fa, usciva un capolavoro assoluto nel genere heavy metal che si chiama The Number of the Beast, terzo album degli Iron Maiden, al quale dedicheremo l'intero video di oggi e quindi andremo non solo a fare un breve track by track dell'album ma andremo a vedere anche vari formati che ho in cd singolo, cd e dvd. Ovviamente chi segue questo canale li ha già visti tutti perché in altre puntate dedicate agli Iron Maiden ovviamente vi ho già mostrato questi pezzi ma in questo caso ci concentreremo esclusivamente su The Number of the Beast. Allora, che dire su questo capolavoro monumentale? Allora, abbiamo la versione in vinile che tutti voi conoscete ovviamente perché è la versione con la copertina un pochino rivisitata quindi con i colori diversi e questa contiene le otto tracce storiche quindi sto parlando ovviamente di Invaders, Children of the Damned, The Prisoner, 22 Akesha Avenue e sul lato B abbiamo The Number of the Beast, Run to the Hills, Gangled e I'll Always Be Thy Name. Primo disco con Bruce Dickinson alla voce che arriva dai Samson e stravolge completamente una band che di base aveva iniziato una carriera più punk perché specialmente il primo album, l'omonimo Iron Maiden proprio tendeva, o meglio faceva un po' il verso al genere più vicino al punk che non al heavy metal genere che di base era all'inizio della sua esistenza per cui ancora non era molto chiaro cosa fosse heavy metal se non quello che avevano già fatti Black Sabbath in generale anni prima ma in questo caso questo terzo album fa veramente esplodere la popolarità degli Iron Maiden che appunto scalano qualsiasi classifica, vendono più di 14 milioni di copie con questo album ovviamente nel corso del tempo, non tutto all'inizio ma producono quello che, diciamo a detta di tutti, è uno degli album fondamentali del genere heavy metal successivamente poi rinominato New Wave of British Heavy Metal accorciato con No Wobam che dire come track by track? Sicuramente andando ad escludere i due super singoloni che sono ovviamente Run to the Hills e I'll It Be Thy Name che conoscono anche le pareti sicuramente su questo album ci sono dei brani secondo me molto sottovalutati che non mi risulta che siano mai stati suonati dal vivo ma magari sbaglio per cui eventualmente correggetemi che sono la Opener Invaders secondo me bellissima e anche Gangland Gangland è stato un brano sottovalutato dai Maiden stessi pensate che addirittura in fase di missaggio si dimenticarono di mettere l'assolo di chitarra infatti nello slot dedicato all'assolo di chitarra non c'è c'è solo una piccola parte che suona Adrian Smith in un secondo momento ma in generale manca l'assolo di chitarra poi chiaramente abbiamo la bellissima The Prisoner un brano che è stato riproposto dal vivo anche più volte e anche 22 Akesha Avenue che è praticamente la fotografia precisa di una band che aveva il veleno dentro in quel momento storico erano talmente gasati che fondamentalmente avrebbero potuto conquistare il mondo e di base secondo me lo hanno fatto poi abbiamo la semi ballad Children of the Damned semi perché comunque ha delle sonorità comunque forti e poi ovviamente Hollow It Be Thy Name in chiusura un brano piuttosto lungo per quei tempi che ovviamente consacra gli Iron Maiden come band ormai di riferimento per questo genere poi per chi non lo sapesse ma ormai suppongo che tutti lo sappiano The Number of the Beast un brano che appunto dà il titolo a questo album è frutto di un sogno di un incubo che ha avuto Steve Harris che quindi poi riporta il suo incubo in musica creando un capolavoro totale leggermente diversa la versione in CD sempre del... diciamo rimasterizzata nello stesso momento del vinile che però introduce un brano che nella tracklist originale non c'era ovvero Total Eclipse mentre poi è presente diciamo una sezione video che ci mostra praticamente i video di Run to the Hills e The Number of the Beast indipendentemente da questo la cosa che mi è piaciuta di più di questa versione è l'aggiunta di un brano che è appunto Total Eclipse che secondo me è assolutamente all'altezza di tutto il resto dell'album infatti non ho mai approfondito la cosa non so per quale motivo fu esclusa all'inizio ma sono molto felice che l'abbiano reinserita perché oggettivamente è un brano che secondo me non ha assolutamente nulla da invidiare a tutti gli altri per quanto riguarda invece le cose di contorno ovviamente abbiamo i singoli Run to the Hills abbiamo ovviamente il singolo The Number of the Beast e poi abbiamo il singolo tratto da The First Ten Years che ovviamente è insieme Run to the Hills e The Number of the Beast mentre un prodotto che vi suggerisco caldamente di rimediare probabilmente si trova anche su YouTube se lo cercate è questo DVD che va a spiegare la genesi e tutto il lavoro che c'è dietro alla realizzazione di The Number of the Beast album fondamentale appunto e in questo DVD purtroppo in DVD perché comunque ha già i suoi annetti ci sono interviste a tutti quanti i produttori e a tutti i componenti della band tra cui Clive Barr il compianto Clive Barr che all'epoca di questo documentario diciamo era ancora più o meno in forma ma è importante anche la testimonianza di Martin Birch che racconta diciamo come è nato questo album ad esempio è molto bello scoprire che l'urlo che sentiamo su The Number of the Beast il famoso urlo che precede l'inizio della prima strofa è praticamente il frutto della disperazione di Bruce Dickinson che dopo ore e ore e ore in studio a tentare di registrare la versione che sentiamo tutti talmente esasperato tira questo urlo incredibile su richiesta ovviamente di Martin Birch e lascia tutti sconvolti per la sua bellezza e naturalezza perché vi ricordo che nel 1982 non esisteva nessun giochetto informatico che invece oggi rende praticamente chiunque in grado di cantare e registrare album mentre a quei tempi o eri un professionista o eri un professionista non c'era la via di mezzo per cui insomma è veramente bello guardare questo documentario per capire ovviamente come è stato realizzato il disco so che in questi giorni sta uscendo anche la cassetta la riedizione in cassetta che ovviamente io non ho perché sono pericoloso quando compro una cosa poi tendo a finire le discografie e le cose per cui evito con tutto me stesso di iniziare a comprare le audiocassette perché altrimenti poi me le compro tutte e non so dove metterle però per chi di voi è amante dell'audiocassetta sappiate che mi sembra che sia già disponibile su Amazon ovviamente vi lascio il link in descrizione anche di tutti questi altri prodotti che abbiamo visto così se non li avete già potete arricchire la vostra collezione con questo fondamentale album di heavy metal detto ciò a questo punto discutiamo insieme nei commenti di questo bellissimo album io vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere nessuno dei miei prossimi contenuti a questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao